Parole da ricordare per il capitolo preliminare a pagina 23. Ripetete, per favore. Sono di, ho, anni. Quanti anni ha? Quanti anni hai? Professore, professoressa, signora. Signore, signorina. Anni, duemila. Giorni, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Sabato, domenica. Che giorno è? Il primo, il primo gennaio. Settimana, mesi. Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno. Giugno, luglio, agosto. Settembre, ottobre, novembre. Settembre, dicembre. Oggi, domani. Sono nato, sono nata. Quando sei nato? Quando sei nata? primavera, primavera, estate, autunno, inverno. Buongiorno, buonasera, buonanotte, ciao, salve. Come sta? Come stai? Come va? E lei? E tu? Non c'è male. Male. Abbastanza bene. Così, così. Bene. Arrivederci. Arrivederla. A presto. Come? Grazie. Per favore. Per piacere. Piacere. Prego. Scusa. Scusi. Sì. No. E. Ed. Come si dice? Cosa vuol dire? Giusto. Giusto. Un'aula. Un banco. Un compito. Un dizionario. Una domanda. Un foglio di carta. Un foglio di carta. Un gesso. Una lavagna. Un libro. Una mappa. Una matita. Una parola. Una penna. Una porta. Un quaderno. Una sedia. Uno studente. Uno studente. Una studentessa. Un voto. Un po' Un po'. Un po'. Un po'. Un po'. Grazie a tutti.